signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale ed è molto probabile soprattutto se bazzicate su blog forum o gruppi facebook legati al gioco di ruolo che abbiate già sentito il termine autorità narrativa questo è un concetto estremamente importante all'interno del gioco di ruolo ma spesso viene relegato a una di quei elementi estremamente tecnici che magari hanno un interesse per i designer ma che nel gioco di ruolo vero e proprio in realtà non è così importante viene ignorato anche se nella realtà è esattamente il contrario qualcosa di fondamentale e fondamentale persino se per stabilire se si stia effettivamente giocando il ruolo o meno perché quindi andremo a parlarne in un video dedicato alle culture del gioco di ruolo e non agli aspetti tecnici perché in realtà una delle cose importanti della gestione dell'autorità narrativa e che a seconda di qual è la corrente culturale all'interno del gioco di ruolo a cui appartenete probabilmente il gioco di ruolo a cui giocherete ha una gestione diversa dall'autorità narrativa e autorità narrative diverse servono anche a distinguere all'interno di quale corrente siate come sempre iniziamo una definizione quando parliamo di autorità narrativa all'interno del gioco di ruolo definiamo qual è la capacità che le regole danno a un singolo giocatore al tavolo di influenzare la fiction all'interno del mondo di gioco condiviso in parole povere stiamo parlando di chi può dire cosa e quando mentre si gioca come ho detto sembra qualcosa di estremamente banale no guarda la durata del video tutte le culture di gioco di cui abbiamo parlato per quanto riguarda autorità narrativa si possono dividere in due grandi macro categorie la prima è la cultura classica e i suoi diretti derivati cioè l'osr il trad e dall'altra parte gli story game per quanto riguarda il neo trad tendenzialmente una corrente ancora troppo giovane non si è stabilizzata diciamo però che in linea di massima la maggior parte del neo trad comunque fa riferimento a concetti della cultura classica quindi per adesso la introderemo lì andiamo quindi a vedere quali sono questi due tipi diversi gestione dell'autorità narrativa la distribuzione dell'autorità narrativa secondo lo stile classico anche chiamato il system zero lo vedremo dopo comunque prevede che tutta l'autorità narrativa tranne l'autorità di dichiarare le azioni e le intenzioni dei personaggi giocanti passi attraverso un solo giocatore discriminato che è chiamato il master come funzionano quindi le cose con questo schema e distribuzione dell'autorità narrativa qui dobbiamo andare proprio sul burocratico perché queste cose sono molto più importanti di quelle che sembrano e probabilmente per un neofita non sono così immediatamente evidenti per prima cosa ogni giocatore dichiara il proprio personaggio si potrebbe sembrare ovvio ma la prima cosa che devono fare i giocatori è dichiarare qual è il personaggio che loro controllano e se è presente o non è presente in una determinata scena normalmente questa cosa non viene fatta ogni singola volta perché si dà per scontato che i personaggi vengano presentati all'inizio nella campagna e poi al massimo se un personaggio non c'è viene dichiarata solo la sua assenza ma in teoria dovrebbe essere fatto ogni volta il master a questo punto introduce la scena descrivendo qual è l'ambiente di gioco e se la scena lo prevede qual è il conflitto che i personaggi dovranno superare in questa scena e poi chiede ai giocatori come hanno intenzione di superare l'eventuale conflitto siete in una stanza con un pavimento di pietra c'è un tavolo alla vostra destra un armadio alla vostra sinistra e un troll al centro della stanza che brandendo il suo randello vi urla contro che fate ora fate attenzione perché è importante ogni giocatore dichiarerà quale l'azione che intende far compiere al suo personaggio e aspetterà che il master approvi o meno quell'azione e dichiari la meccanica che verrà utilizzata per risolverla e qui ci interrompiamo perché quando si tratta di pratica e non di teoria tutto questo diventa estremamente più confuso se non si sa quali sono le basi nell'autorità narrativa classica infatti l'unica autorità narrativa data al giocatore è quella di dichiarare le intenzioni e le azioni del suo personaggio ma l'esito di queste azioni o anche se la dichiarazione fatta al giocatore è accettabile o meno ricade tutto all'interno dell'autorità del master il master una volta ascoltata la dichiarazione del giocatore dichiarerà in base alla sua autorità se quella dichiarazione ha un esito scontato cioè se quello che ha detto il giocatore è qualcosa che ha sicuramente possibilità di successo quindi non c'è bisogno di una prova o non c'è bisogno di una prova perché sicuramente è destinato a fallire teoricamente non c'è bisogno di una prova perché quello che il giocatore ha detto non influenza drammaticamente il gioco oppure se l'esito dell'azione non è scontato e c'è un'influenza drammatica sul gioco quindi il master dichiarerà quale meccanica verrà utilizzata per vedere se quell'azione va a buon fine o meno ovviamente qual è il tipo di meccanica dipende dal gioco di riferimento tirerà un dado pescherà una carta spenderà delle risorse in realtà è indifferente il fatto che sia il master a dichiarare quale regola verrà applicata causa una divisione interna tra i giochi di autorità classica perché la cultura classica vera e propria e l'OSR lasciano molta libertà al master su quale sia effettivamente la meccanica da autorizzare il master potrebbe prendere la risoluzione proposta sul manuale cioè usare la regola per come scritta o cambiarla a suo piacimento o decidere di introdurre una nuova regola se ritiene che questa sia la cosa migliore da fare perché la situazione non è gestita bene sul manuale o perché non è proprio prevista o se ritiene che il caso specifico debba essere gestito in maniera particolare in realtà è totalmente discrezionale da parte del master nei giochi trad e in larga parte anche quelli neo trad ma dipende il master è tenuto sempre a dichiarare la regola per come scritta sul manuale e ha capacità discrezionali molto più limitate in pratica il master può dichiarare una meccanica sua solo nel caso in cui o quello che il giocatore vuole fare non è previsto nel regolamento non è neanche riconducibile a una situazione più ampia che il giocatore ha detto qualcosa che il regolamento non provvede che il suo personaggio faccia ma il master decide che ha senso che il personaggio provi a farlo o se proprio la situazione talmente strana da richiedere una gestione particolare ma sono eventi estremamente rari non vi aspettate comunque dei limiti estremamente rigidi in linea di massima nel trad si usano sempre regole del manuale e nello sr il master ha molte più discrezionalità poi nella pratica esistono master osr estremamente fedeli al regolamento e master trad che cambiano le regole molto più frequentemente anche di quello che dovrebbero stiamo comunque parlando di un gradiente non sono blocchi monolitici le culture questa autorità del master comunque di decidere qual è la regola da utilizzare viene sancita praticamente in tutti i regolamenti da quella che si chiama la regola zero ne abbiamo fatto anche un video qualche anno fa ve lo lascio qua su che appunto porta tutto questo genere di regolamenti tutta questa tipo di distribuzione autorità narrativa a essere collettivamente identificato come system zero è un modo proprio per intendere che dato che è presente la regola zero nel sistema per quanto due tavoli della stessa corrente che utilizzano lo stesso regolamento potrebbero avere una implementazione effettiva della regola al tavolo molto diversa tra i loro quello che porta confusione spesso a chi non è nel deep lore del gioco di ruolo mettiamola così è che all'atto pratico tutta questa trafila burocratica esiste in teoria ma viene in larga parte ignorata nella pratica a livello teorico quando voi giocate a dnd che statisticamente il gioco diffuso voi dovreste dire al master provo a colpire il troll con la spada il master dovrebbe rispondervi allora per colpire il troll devi tirare un dado da venti e sommare il bonus attacco a quel punto voi tirate dite il risultato al master il master vi dice ok con questo risultato hai colpito non hai colpito e descrive cosa succede al troll in base al risultato della prova va da sé che se per ogni prova tirata venisse fatto esplicitamente tutto questo percorso non solo il gioco durerebbe molto più di quello che già dura ma ci sarebbe anche una enorme quantità di ripetizioni degli stessi concetti che a un certo punto diventerebbero anche un'offesa all'intelligenza stessa dei giocatori se te sono tre round che stai cercando di colpire il troll ovviamente tirerai sempre lo stesso dado sommerei sempre lo stesso modificatore diciamo che la maggior parte dei tavoli quando si usano regole che sono ovvie per tutti i partecipanti ignora semplicemente la trafila e i giocatori semplicemente mentre dichiarano l'azione fanno già che eseguire la prova molto spesso il master lascia anche che siano i giocatori stessi a descrivere quello che succede e interviene personalmente solo nel caso i giocatori stiano sbagliando qualcosa o comunque sia successo qualcosa che lui vuole cambiare per qualche motivo badate bene però che non c'è un reale cambio dell'autorità narrativa non è che adesso i giocatori hanno autorità su più cose il master meno l'autorità del giocatore è solo quella di dichiarare le azioni e l'autorità di descrivere le loro influenze nel mondo è solo del master semplicemente il master invece di esercitare questa sua autorità in maniera attiva cioè dicendo ai giocatori cosa fare lo fa in maniera passiva cioè non dicendo nulla fin tanto che le cose gli stanno bene una forma di silenzio assenso un caso particolare però molto raro che potrebbe renderlo evidente è quando un giocatore dichiari qualcosa che non è possibile dichiarare non dichiari un'azione che sicuramente fallisce o qualcosa che avrebbe difficoltà a essere insalito in trama proprio il giocatore sbaglia a eseguire la sua dichiarazione il mio guerriero lancia palla di fuoco il guerriero non può lanciare palla di fuoco quello che ha detto il giocatore tecnicamente non ha senso all'interno del sistema di gioco in quel caso il master non dichiarerà che l'azione è fallita dovrà rimandare la dichiarazione al giocatore cioè digli quello che hai detto non ha senso dichiara qualcos'altro perché il master non ha mai comunque l'autorità di fare dichiarazioni per i personaggi e quindi il gioco si blocca finché l'autorità del giocatore non viene espletata in quel caso probabilmente diventerebbe più evidente qual è il rapporto tra l'autorità e l'altra però anche questo dato che normalmente i giocatori sanno quello che devono dire è effettivamente raro che un giocatore magari neofita arrivato a un tavolo veda una situazione del genere gli story game si distinguono dai system zero proprio perché non usano questo sistema e distribuzione dell'autorità narrativa in che modo differiscano come tutto quello che riguarda i story game dipende da caso a caso alcuni magari sono molto vicini al modello classico ma danno più autorità ai giocatori e meno al master o giocatori e master hanno possibilità di dichiarare qualcosa di diverso altri invece se ne di stock costano del tutto non hanno una distinzione tra giocatori e master magari non c'è neanche una figura arbitrale come quella del master e chi può dichiarare cosa dipende da lo specifico momento all'interno del gioco non esistendo un unico modello di gestione dell'autorità condivisa è difficile fare un esempio pratico quindi facciamo qualcosa di puramente inventato diciamo che nell'ipotetico story game del master cae all'inizio di ogni scena tutti i giocatori tirano un dado e quello che ha ottenuto il risultato più basso ha l'autorità di descrivere l'ambiente di gioco e solo quello il giocatore che ha ottenuto il risultato più alto ha l'autorità di introdurre il conflitto della scena ma non l'ambiente né la sua risoluzione gli altri giocatori spareggiano di nuovo e chi ha il risultato più alto decide come il conflitto verrà risolto e chi ha quello più basso quale dei personaggi è stato a risolverlo o quali sono state le conseguenze della sua risoluzione ovviamente in un gioco di rai le cose sarebbero più complesse probabilmente ci sarebbe una meccanica di rilanci per potersi rubare l'autorità però come esempio per spiegarci è chiaro non esiste un master che dichiara tutto e un giocatore che dichiara il personaggio ogni persona saluto al tavolo in un determinato momento ha l'autorità di dichiarare una specifica cosa in molti story game infatti le regole non servono proprio neanche per descrivere le azioni dei personaggi o esistono regole per i personaggi in minima parte ma il grosso del regolamento stabilisce proprio chi ha l'autorità per fare cosa e quando e ovviamente questi regolamenti non sono mai system zero cioè non c'è discrezionalità da parte del master le regole devono essere sempre applicate esattamente come dice il regolamento appunto perché non esiste un giocatore che abbia un'autorità superiore agli altri tutti i giocatori devono seguire quello che dicono le regole punto prima di concludere un'ultima cosa ma estremamente importante indipendentemente da come gestiate l'autorità narrativa al vostro tavolo o in base al regolamento che utilizzate se siamo in system zero se stiamo usando uno story game se il vostro master dichiara attivamente o passivamente ricordate sempre che indipendentemente da come l'autorità narrativa viene gestita e il fatto che l'autorità narrativa sia presente come concetto all'interno del sistema di regole a rendere l'attività che state svolgendo un gioco di ruolo o meno se non esistono regole per stabilire chi può dire cosa e quando non stiamo più parlando di gioco di ruolo ma ci stiamo spostando in altri campi nel caso potenzialmente chiunque possa intervenire per modificare quando ritiene necessario fuori in mente siamo più vicini al teatro improvvisato anche se anche lì ci sono delle regole molto complesse probabilmente quelli che vengono chiamati play pretend quei giochi che sicuramente avete fatto almeno una volta a bambini del facciamo finta che al contrario se esistono delle regole ma danno l'autorità narrativa in mano a una singola persona cioè esiste una sola persona che decide tutto ecco quello è un altro tipo d'attività che si chiama scrivere un romanzo abbiamo già detto se c'è una sola persona che decide state scrivendo un romanzo mal che vada lo state facendo a voce davanti a un pubblico questo lo voglio sottolineare perché mi è capitato molto spesso di vedere gente a rimanerci male quando descrivendo il modo un po' surreale in cui gestiscono le loro partite vedono la loro opinione semplicemente ignorata e gli viene risposto non stai giocando a inserisci il nome del gioco o semplicemente non stai giocando di ruolo ecco se al vostro tavolo tutto quello che succede non viene deciso dalle regole ma viene deciso da l'accordo che prendete tra di voi vi mettete a discutere su più o meno come ci si risolve finché non trovate una quadra al vostro gruppo se vi diverte molto bene per voi ma il gioco di ruolo non è questo nel gioco di ruolo tutte le discussioni avvengono o prima per accodarci su quali sono le premesse del gioco o finita la sessione per commentare e lamentere ma durante una sessione di gioco l'autorità è gestita in maniera insindacabile nel modo in cui le regole di quel gioco descrivono che sia gestita chiarito di questo diciamo che per questo video è tutto vi avevo detto che la serie sulle culture del gioco di ruolo non si sarebbe fermata o anche altre cose in programma tra l'altro anche infermiste ma dovete aspettare per adesso invece come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto mi aspetto di vedere roba interessante mettiamola così come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link del server di griscord e del gruppo i telegram dove metto io gli annunci dei video manualmente e dove trovate il resto della comunità del master care probabilmente in questo momento intenta a litigare sul contenuto di questo video per il resto io sono il master care e noi ci vediamo nel prossimo video